Questo video è rivolto a tutte le persone che sono in possesso della patente nautica e che in molti casi, dopo aver conseguito la patente, si rendono conto che per poter navigare in mare serve la pratica. Infatti affrontare il mare in sicurezza non è uno scherzo e quindi diventa importante fare pratica e imparare a pianificare la navigazione, per esempio consultando i siti internet più affidabili e le giuste app, per quanto riguarda la meteorologia, come è importante imparare le giuste tecniche per ormeggiare una barca senza essere assaliti dall'ansia della manovra, essere in grado di fare un buon ancoraggio, imparare a gestire un incendio a bordo, sapere utilizzare in maniera adeguata le dotazioni di sicurezza, sapere usare il VHF per lanciare un segnale di soccorso o di emergenza, sapere regolare e ridurre le vele in caso di maltempo, fare una virata in cappa, conoscere le precedenze di rotta, essere in grado di fare in maniera corretta un nodo di ormeggio, queste sono tutte cose che si possono imparare anche sui live, ma poi bisogna essere in grado di metterle in pratica e di provarle durante la navigazione. Per tutti i motivi che abbiamo elencato, e per tanti altri che sarebbe troppo lungo elencarli in questo breve video, noi di Nord-Est Vela Sailing Team abbiamo creato il corso Skipper Primo Comando, un corso della durata di una settimana che offre all'allievo la possibilità di fare esperienza di navigazione e provare in prima persona il comando effettivo dell'imbarcazione e la gestione dell'equipaggio. Una settimana di corso per vivere di persona tutti gli aspetti, imprevisti compresi di una navigazione da crociera. I corsi Skipper Primo Comando si svolgono nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno in Nord Adriatico, nel Golfo del Quarnaro, tra le isole di Cres, Lussino, Unie, Kirk, Susak e Ilovich, con partenza dalla base nautica di Pomer, che si trova vicino a Pola, in Croazia. Potete trovare tutte le informazioni sul nostro sito internet nordestvela.com oppure inviarci una mail all'indirizzo info-nordestvela.com Vi aspettiamo a bordo!